È capitato a tutti di entrare in una banca e dover compilare dei moduli che servono agli operatori per conoscere la propria clientela e attuare così delle misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo internazionale. Il riciclaggio è un fenomeno mediante il quale si cerca di celare l'origine illecita di capitali e di fondi per reinserirli nell'economia legale. Dove hanno origine tutte queste misure di prevenzione? Nell'ordinamento internazionale e dell'Unione Europea. Il diritto internazionale e dell'Unione Europea condizionano sempre più gli ordinamenti interni anche necessariamente vista la transnazionalità del fenomeno del riciclaggio, capitali illeciti che si muovono da uno Stato ad un altro. Ecco allora che il contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo internazionale parte prima di tutto dalla cooperazione internazionale tra gli Stati. Grazie a tutti.